Un lavoro, un servizio ed un diritto. Così l'assessore alla scuola e all'istruzione Anna Maria Palmieri ha definito la scuola in apertura dei lavori della nuova commissione consigliare che si occuperà dei temi della scuola presieduta da Luigi Felaco. Per comprendere l'importanza del settore basterebbe pronunciare le cifre degli utenti interessati. In 30.000 frequentano le scuole per l'infanzia statali, 5.000 le materne comunali, 2.000 i nidi comunali e con i servizi erogati a vario titolo in favore di tutta la popolazione scolastica si raggiunge il numero di 120.000 piccoli cittadini di cui il comune si occupa ogni anno. È stata anche sottolineata l'importanza e le funzioni del decentramento verso i servizi amministrativi delle municipalità a partire dalla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici tramite l'edilizia scolastica fino alla refezione scolastica condivisa fra le scelte dell'amministrazione che predispone le gare e le dieci municipalità che provvedono al controllo e dal coordinamento territoriale. A tale riguardo la commissione ha preso atto del lavoro svolto negli ultimi cinque anni per valutare possibili ulteriori proposte rispetto ad un servizio che per dieci mesi all'anno serve 30.000 utenti e che va ricordato e a domanda individuale, cioè erogato ed utilizzato a richiesta dell'utente senza che sia stato dichiarato gratuito per legge. Gli obiettivi perseguiti dall'ultima gestione in particolare sono stati due. Elevare decisamente la qualità del servizio in collaborazione con la ASL Napoli 1, tra l'altro attraverso il sistema dello scodellamento e dell'utilizzo di menù equilibrati con prodotti biologici e piatti tipici tradizionali ma anche differenziati rispetto a patologie e intolleranze alimentari o per motivi religiosi culturali. Inoltre limitare le spese di numerosi sprechi e basti ricordare che non era mai stato istituito un archivio degli utenti, mentre oggi tutta la procedura è stata informatizzata ed il servizio viene erogato per numero di pasto a richiesta giornaliera controllata quotidianamente, una modalità che consente grande trasparenza e che in futuro consentirà anche agli utenti di usufruire del servizio online ed infine anche attraverso la lotta ad elusione ed evasione.